Voglio ringraziarvi per averci seguito così tanto e con così tanta attenzione in questi mesi che abbiamo passato per il successo del Milan. Io ricevo la segna stampa, me la leggo, cioè voi ci seguite veramente in un modo fenomenale. Sono sorpreso sempre di vedere come ci seguite e vi sono particolarmente grato. Oggi è una giornata speciale, pensate che fortuna ho io di fare il presidente dello scudetto del Milan dopo più di dieci anni che non c'è. Veramente è una fortuna incredibile, mi considero un uomo fortunatissimo anche perché considero di non avere nessun merito per questo scudetto. Quindi veramente è tutto merito, a cominciare da Aival e poi della nostra squadra meravigliosa. Grazie Presidente, grazie a tutti voi per ci hanno seguito questa stagione speciale. Veramente abbiamo fatto un vero lavoro di squadra, tutti insieme, anche con i nostri tifosi che ci hanno spinto ad ogni passo, ogni difficoltà. C'erano molte difficoltà durante questa stagione, sia sul campo che fuori, ma alla fine tutti noi abbiamo un grande orgoglio. Un orgoglio per aver fatto qualcosa speciale, ma non solamente cosa abbiamo fatto, ma anche come l'abbiamo fatto. perché credo che abbiamo provato a farlo in una maniera con i valori del club, senza alimentazioni, senza rimpianti. Alla fine, veramente, credo che questo gruppo di ragazzi, questa squadra, lo staff, il mister e soprattutto i tifosi lo meritano veramente. Grazie a tutti voi per essere qui questa mattina e spero che sia un bel giorno.